Oltre 200 tra dipinti, sculture, documenti e cimeli sono i frammenti più preziosi dell'epopea risorgimentale degli Umbri, quelli proposti nella mostra Arte e Patriotismo nell'Umbria del Risorgimento, un contributo del Consiglio regionale dell'Umbria alle celebrazioni del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia. La mostra ha ottenuto il logo ufficiale delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I pezzi esposti occupano la parte più suggestiva di Palazzo Cesaroni, dall'Androne ai piedi dello scalone d'onore ai corridoi del Piano Nobile, fino alla Sala Brugnoli, riaperta al pubblico dopo i lavori di consolidamento e restauro che hanno interessato anche la facciata esterna del palazzo, restituita all'antico splendore. Il percorso espositivo copre un arco temporale che va dal 1849 al 1870 e ripropone anche i contenuti delle celebrazioni in Umbria del 1911 e del 1961. Vi si racconta in maniera viva e compiuta il contributo a risorgimento offerto dall'Umbria e dai suoi protagonisti, quella gioventù ribelle, che anche in questa regione ha visto personaggi di spicco. Il lavoro preparatorio e di ricerca ha permesso di portare alla luce curiosità e anche novità di notevole interesse storico e documentale, come spiega il curatore Massimo Duranti. In effetti c'è stato un lungo lavoro preparatorio per questa mostra da parte di un qualificato comitato scientifico e dei colleghi curatori. Un lavoro che ha portato a delle scoperte, delle precisazioni sia dal punto di vista letterario, documentale ma anche artistico. Fra le tante mi piace citare che i famosi acquerelli attribuiti fino ad ora a Napoleone Verga sulle stragi di Perugia del 20 giugno del 1859 sono in realtà di tal Cesare Martinelli, documentato. Comunque il dibattito è certamente aperto, ma non finiscono qui. Vorrei ricordare, ve lo sanno in pochi, che nell'ambito dell'apporto degli Umbri e dei Perugini in particolare al risorgimento si misura ad esempio con la partecipazione nel 1849 alla Costituzione della Repubblica Romana, impresa che purtroppo ebbe vita brevissima. Ne sortì però una Costituzione e, guarda caso, rispetto al lavoro degli Umbri, l'originale della Costituzione è a Perugia, custodita della Biblioteca Augusta, perché ve lo portarono a Riodante e Fabretti Giuseppe Pennacchi, i due segretari dell'Assemblea. L'abbiamo esposto qui per la prima volta a Perugia per tre giorni, ma le novità non finiscono qui. Mi piace ricordare che la bandiera che sventolò il 14 settembre del 1860 a Palazzo dei Priori dopo la liberazione della città, sventolò oggi sullo scalone di Palazzo Cesaroni. C'è ancora una bellissima banconota del 1862, autografa firmata da Giuseppe Garibaldi, una delle tante banconote che uscì dopo l'Unità d'Italia. E infine c'è la pistola di Francesco Guardabassi, noto patriota perugino, che tanto si impegnò per la liberazione di Perugia per l'annessione, chiamiamola così, dell'Umbria al nuovo Stato Unitario. Di rilievo anche i cimeli di provenienza Umbra riferiti a Giuseppe Garibaldi. La piccola barca, un beccaccino di appena 4 metri con fondo piatto, oggi di proprietà del comune di Terni, con cui Garibaldi fuggì da Caprera nel 1867 attraversando il braccio di mare che separava l'isola del suo esilio dalla Maddalena, da cui si partì per la sfortunata impresa di Mentana. E Dianita, compagna dell'eroe dei due mondi, è in mostra una sella da cavallo che un artigiano di Todi trattenne per sé, perché volle regalare alla sfortunatissima sposa allora incinta, una sella più confortevole nella fuga da Roma nel 1849. E un'altra sorpresa, infine, che viene però dall'oggi, Trame d'Italia, una grande bandiera italiana realizzata in lana Kashmir dall'imprenditore Brunello Cucinelli, che con questo manufatto ha voluto rendere omaggio all'unità d'Italia e alla mostra. La mostra, interamente documentata da un ricco catalogo della casa editrice F Fabri, è organizzata in quattro sezioni. La prima sezione, Scene dalla primavera dei popoli, gli Umbri e la Repubblica Romana, presenta con opere d'arte e documenti il contributo che i patrioti Umbri hanno dato al risorgimento. Nella seconda sezione, i tragici fatti di Perugia del 20 giugno 1859 e l'Umbria dei plebisciti si espongono, fra le tante opere, noti acquerelli, che narrano la terribile repressione dei mercenari svizzeri al soldo del potere temporale del Papa contro i sussulti di libertà dei perugini, oltre alla ricca documentazione sullo svolgimento del plebiscito nella nostra regione che sancì l'adesione allo Stato Unitario. La terza sezione, gli Umbri dalla guerra regia alla guerra di popolo, racconta con dipinti e documenti, anche in questo caso spesso inediti o poco noti, la partecipazione dei nostri patrioti alle grandi battaglie risorgimentali, Custoza, Mentana, Campagna Romana. La quarta sezione, infine, le celebrazioni della nuova Umbria 1911-1961, racconta come la nostra regione celebrò i primi due anniversari, con dovizia di particolari e di documenti del tutto sconosciuti alle nuove generazioni. La mostra rimarrà aperta fino a martedì 20 dicembre, domeniche e festivi compresi, con il seguente orario, da lunedì al sabato, alla mattina, dalle 10 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30, domeniche e festivi solo al mattino, dalle 10 alle 13.